Fiorentino che ha subito un furto in casa, ma il furto non è stato mirato tanto a portare via dei valori quanto ad acquisire dei documenti di carattere molto personale. Dopodiché si è tentata l'estorsione, hanno cercato di ricattarlo, facendosi consegnare soldi in cambio del materiale. Per il momento questo è stato un caso specifico, non abbiamo altri casi in sospeso, quindi abbiamo già arrestato gli autori e stiamo lavorando per individuare eventualmente quella che può essere stata la talpa, chiamiamola così.